buongiorno a tutti sono a castel sant'angelo sul nera sempre nel parco di monti sibillini vi faccio vedere come è ridotto il paese praticamente tutto distrutto e il paese completamente abbandonato purtroppo questa è la trista realtà qui ci sono le sbarre quindi una volta si entrava di qua per entrare per arrivare al centro storico ma adesso come potete vedere è tutto completamente sbarrato e bloccato anche lì ci sono altre case diroccate e abbandonate a seguito del terremoto e anche qua come potete vedere